Organizzato da PVC Forum, ha avuto luogo a Milano il primo di quattro incontri che si seguiranno nel corso del 2019. Il 28 marzo il tema è stato quello della Plastic Strategy e del RIC interpretati da PVC Forum. Hanno parlato Roberto Saitone di Plastics Europe Italia, l'architetto Giulio Ceppi di Total Tool e Stefano Arpisella del centro RIC. Il grande interesse degli argomenti trattati, in particolare quello delle prospettive e delle possibilità di riciclo dell'enorme massa di materiali plastici che si sono sparsi per l'ambiente negli ultimi decenni, sono stati il punto focale della riuscita riunione milanese.